A settembre a Shanghai si tiene la 22esima China International Industry Fair, la prima fiera internazionale cinese nel settore industriale. In merito alla partecipazione italiana, ultimamente è stato firmato un accordo tra la Camera di Commercio Italiana in Cina e la parte organizzatrice di questa fiera sulla realizzazione di un intero patiglione italiano, a dimostrazione della dimensione della partecipazione italiana. Per sapere dei dettagli, questa settimana fare un collegamento con qualche esponente della Camera di Commercio Italiana in Cina. Amici imprenditori, non mancano!